E' mio onore presentare il primo oratore che è un po' il nostro fiore all'occhiello a Padova perché la principale terapia per ora per la neurofibromatosi è chirurgica. Quindi io vi presento un'eccellenza nell'onco neurochirurgia italiana di vasta esperienza nel trattamento chirurgico dell'NF. Il professore di chirurgia plastica ricostrutiva ed estetica presso il Dipartimento di Neuroscienze che tra l'altro ha patrocinato questa conferenza, il professor Bassetto. Vi presento il principale oratore che ci parlerà della chirurgia innovativa nell'ambito della neurofibromatosi di tipo 1. Buongiorno a tutti, sono un po' imbarazzato dopo una presentazione di questo tipo. Comunque vi assicuro che starò assolutamente nei tempi perché detesto parlare a congressi nella propria città perché il direttore generale mi aspetta oggi alle 3 in ospedale per discutere il budget 2019 e voi capite bene che devo esserci perché ne va della nostra sopravvivenza. Quindi cercherò di restare, sicuramente resterò nel tempo affidato e vi presenterò un po' quella che è la nostra esperienza. Credo che chiunque, l'uomo della strada, si chieda spesso ma cosa c'entra il chirurgo plastico con le malattie rare. La chirurgia plastica è una disciplina molto particolare perché è l'unica disciplina non d'organo. Tutti sapete cosa fa il cardiochirurgo perché lavora sul cuore, tutti sapete che cosa fa l'ortopedico perché lavora sulle ossa, ma non si sa che cosa fa il chirurgo plastico perché la nostra è una chirurgia di metodo, il metodo ricostruttivo. E quindi noi siamo, diciamo, dipendiamo da tutte le specialità che ci affidano il ruolo ovviamente ricostruttivo. In questo caso, nella neurofibromatosi, non solo ricostruttivo ma anche ovviamente demolitivo. Sono felice di essere qua, due anni fa ero qua lo stesso, il 28 di febbraio, giornata mondiale delle malattie rare, a parlare di AC syndrome, un'altra malattia rara. Il professor Tadini si ricorda, in cui i pazienti sono affetti da una schisi che coinvolge il volto, coinvolge le mani, coinvolge i piedi e quindi hanno un percorso ricostruttivo che inizia dalla correzione dopo pochi mesi della schisi facciale, quadri veramente molto molto importanti e che finisce poi con la riabilitazione delle mani e dei piedi. L'anno scorso invece ero a Montecatini a parlare di Poland, altra malattia rara del distretto della Mammella e dell'Arto Superiore e quest'anno abbiamo ceduto alle, diciamo, pressioni di Federica Chiara e alla sua grande grinta di dedicare quest'anno, nell'ambito della clinica che dirigo, l'anno alla neurofibromatosi. E devo dire che i risultati ci sono stati, perché abbiamo visto un numero veramente importante di pazienti di cui adesso vi parlerò. Quindi, diciamo, si diceva che questa malattia è fondamentalmente rara, ma direi, visti i numeri che ho visto nell'ultimo anno, non lo so, ce lo dirà poi Tadini se è veramente rara o è forse la meno rara tra le rare. Senz'altro io vorrei partire dalla storia, da questa diapositiva storica, per poi alla fine trasmettervi quella che è stata la mia esperienza conoscendo questi pazienti. La diapositiva storica dice che, diciamo, la neurofibromatosi, sulla quale esiste questo consenso, è una malattia nella quale il ruolo della chirurgia è fondamentale. Vedete, la resezione chirurgica rimane il più grande, il più importante trattamento quando la malattia si fa sentire, cioè quando è sintomatica. Questo vuol dire che non tutti i pazienti affetti da neurofibromatosi arrivano al chirurgo plastico, ci arrivano quando la malattia si fa sentire. Le diagnosi differenziali sono moltissime e qui ovviamente lavora la genetica e lavora la ricerca, perché c'è ancora moltissimo da fare. Quali sono i quadri più semplici che vediamo, che spesso possono anche non aver bisogno del chirurgo plastico? Le cosiddette macchie caffè latte, dove oggi si fa il tatuaggio medicale in ambito di chirurgia plastica, in ambito di sistema sanitario nazionale. I nevi anemicus che qualche volta i dermatologi inviano pensando ad una qualche displasia e per la quale se la lesione è di piccole dimensioni un'asportazione chirurgica è indicata. Oppure i cosiddetti emangioma a ciliegia, che possono essere fastidiosi perché possono sanguinare e io sempre di fronte ai genitori dico forse lo toglierei perché se vi succede al mare d'estate che mettendo il costume viene sfiorato sul dorso, questo emangioma, e comincia a sanguinare la pressione del sangue è una cosa che vi impressiona, ci mettete un asciugamano sopra correte al pronto soccorso e vi rovinate la vacanza. Quindi forse vale la pena di asportarli in maniera semplice o con laser quando sono sintomatici, oppure l'asportazione chirurgica dei neurofibromi plessiformi dei quali adesso vi parlerò in modo un po' più diffuso. Sicuramente comunque noi sappiamo che i quadri di questa malattia sono estremamente eterogenei e non è detto che questa malattia porti sempre il paziente dal chirurgo plastico. Alla nascita le macchie caffelatte che si sviluppano soprattutto nel primo anno di vita possono creare più problemi nella mamma che nel bambino perché la vive come una, diciamo, non saprei come definirla, ma come qualcosa di inestetico per cui arriva a chiederci e noi come chirurghi plastici ricostruttivi ed estetici e ci teniamo moltissimo a dire che il nostro DNA è l'estetica, è il fatto di poter dare della simmetria, dell'armonia a qualche cosa che invece non ha queste caratteristiche e quindi si può sicuramente far qualcosa. I neurofibromi invece plessiformi, quindi che si sviluppano a livello nervoso nel primo anno di vita, sono presenti soprattutto nel distretto di testa e collo, vedete questo piccolino, magari se spegniamo questo bellissimo lampadario forse si vedono le immagini un po' meglio, vedete un piccolo spot proprio nella regione preesternale oppure molti di più che naturalmente aumentano rapidamente durante l'adolescenza. Prima l'ho salutata, questa è Federica, è una nostra paziente storica la quale ha vissuto proprio il dramma dello sviluppo di queste neoformazioni durante l'età adolescenziale. Ma si arriva poi a quadri invece molto più complessi che sono inseriti, come si diceva prima, in veri e propri quadri sindromici di ritardo mentale, neurofibromi localizzati a livello facciale, displasie schelettriche. Non sono prevalenze importanti, si parla del 12%, però sono dati che inquadrano in una sindrome questa malattia. Oppure disordini molto meno importanti del sistema sanitario nazionale associati a stenosi dell'arteria renale, quindi questi pazienti sono sempre molto complessi, devono essere comunque sempre monitorati come pazienti che possono avere diversi sintomi che possono portare alle diagnosi di che cosa sta avvenendo a livello anatomico che crea questo tipo di deficit funzionale con tumori neuroendocrini e viscerali. Anche qui prevalenza comunque non altissima. E infine lo sviluppo di tumori maligni. Questo ovviamente è quello che fa paura a tutte le mamme, quindi nonostante si parli di prevalenza bassa, però non è così bassa, è un 5% e poi vi farò vedere la mia esperienza. Questo è il primo caso, il caso di questa bambina. Mi sono preso i nomi perché sapevo che eravate una associazione e quindi questa ragazzina che ho conosciuto quando aveva 14 anni si chiama Elisa, è di Rovigo, e la operammo. Vedete che nonostante avesse una localizzazione a livello mammario e quindi tranquillizzavamo la madre che saremmo comunque intervenuti anche a livello mammario alla fine dello sviluppo, abbiamo dovuto operarla a 12 anni perché aveva sviluppato un tumore a livello dell'arto superiore di destra che era legato a questo quadro neurofibromatosi, di neurofibromatosi, risultato istologicamente maligno. Qui abbiamo fatto una grande resezione oncologica ed una ricostruzione immediata del nervo periferico per evitare ovviamente la paralisi. Ecco il ruolo del chirurgo plastico che demolisce ma anche ricostruisce. Per noi demolire è una violenza alla nostra forma mentale perché effettivamente noi vediamo sempre l'aspetto ricostruttivo, quindi l'aspetto positivo che deve avere l'atto chirurgico. Poi ci sono invece questi quadri, questi sono tutti altri pazienti padovani, vedete, con sviluppo di neurofibromi a livello delle terminazioni nervose che originano a livello dermico, quindi siamo molto molto superficiali, quindi siamo laddove il sistema nervoso periferico arriva con dei fili a innervare il derma. Anche qui però si può sviluppare ovviamente la neoformazione. Oppure sotto cutaneo, quindi nell'ambito del tessuto adiposo sotto cutaneo, si possono sviluppare queste forme che vedete per esempio in modo anche gigante a livello del gluteo di questa bambina di Roma. Oppure naturalmente in coinvolgimento di tronchi nervosi principali e vedete lì diagnosi maligna e quindi si fa già la radioterapia intraoperatoria, si fissano già dei fili che poi faranno una plesioterapia, quindi una terapia di sostegno alla resezione chirurgica, perché siamo di fronte a tumori maligni. La resezione quindi chirurgica è il perno nel trattamento di neurofibromi, però dicevamo prima, quando questi sono o sintomatici o in fase di accrescimento. Questo è un bambino di due anni che c'era stato presentato dal professor Gigante e vedete che la resezione di questo neurofibroma plessiforme plantare è molto invalidante e quindi una asportazione diciamo sicura, perché è la radicalità che si deve cercare di raggiungere tutte le volte in cui si affronta questo tipo di intervento, è necessitata poi di un intervento microchirurgico ricostruttivo eseguito a distanza di tre settimane quando avevamo la certezza e questo bimbo di cui non sono riuscito ad avere il post-op perché vive in Sicilia, ma l'abbiamo invitato a mandarci delle foto mentre cammina, ha avuto la pianta del piede poi ricostruita in modo funzionale. Quali sono quindi le indicazioni chirurgiche? Perché dicevamo una malattia che si deve far sentire? Perché il paziente ha dolore, quindi la pressione del neurofibroma è in un distretto dove evoca dolore, dove dà una compromissione funzionale. Questo è un paziente di Rovigo, Cesarino, che opereremo nel mese di maggio e vedete una situazione veramente destruente a livello del piede e questo è arrivato proprio quest'anno perché ha letto da qualche parte che la clinica di chirurgia plastica di Padova aveva deciso nell'ambito delle malattie rare di cui si occupa di dedicare il 2018 alla neurofibromatosi. Ma anche, diciamo, l'imbarazzo nella vita estetica e relazionale. Non ci si deve vergognare di tutto questo. Io sono sempre stato molto orgoglioso di dire che sono un chirurgo plastico, ricostruttivo ed estetico perché io penso che, diciamo, la possibilità di risolvere un problema gluteo di questo tipo in una ragazza di 18 anni ha anche un impatto nella sua, diciamo, immagine corporea importantissimo e questo lavora sulla psiche di questa ragazza. Quindi noi, è vero, spesso siamo anche i chirurghi dell'anima. Oppure, naturalmente, la potenziale evolutività neoplastica. Questa è una ragazza di 18 anni che ho operato alla fine del 2018. Vedete quella massa segnata con quella X. Arrivava dopo un percorso di exeresi incomplete o una grande apprezzione da parte della famiglia e per fortuna, però, pur lavorando con gli occhialini da microchirurgia per cercare di enucleare la parte malata rispetto agli organi nobili ai nervi, siamo riusciti, speriamo, a mantenerla lontana dalla recidiva che era continua per i prossimi anni. Questa è la nostra ragazzina di prima che vi ho fatto vedere, in cui inizialmente addirittura c'era arrivata una diagnosi che non era in qualche modo corretta, cioè di schwannoma. In realtà un second look da parte di un gruppo di esperti anatomopatologici aveva confermato che si trattava di un neurofibro sarcoma. E qui vedete le due fasi, quindi l'inserimento degli aghi di ridio e la ricostruzione utilizzando un nervo sensitivo della gamba. Il chirurgo plastico ha molta fantasia, prende da Pietro e da Paolo, quindi naturalmente Pietro non deve soffrire e infatti qui non soffre, perché alla fine togliendo quel piccolo nervo sulla superficie esterna della gamba, la paziente perde una piccola sensibilità intorno al malleolo, ma guadagna la funzionalità della mano perché questo nervo viene ricostruito già durante l'intervento. Questa ragazzina però ha avuto questa recidiva dopo alcuni anni, che vedete è un caso che abbiamo anche pubblicato nel 2003, ma nel 2014, abbiamo concordato con lo IOV, con l'Istituto Oncologico Veneto, una disarticolazione interscapolo-toracica destra perché questo tumore era recidivato con un alto grado di malignità. E diciamo, lei che si chiama Elisa, ci ha mandato questa foto l'altro giorno dicendo che comunque ha una voglia di vivere e vedete va in piscina e diciamo ha una vita pressoché normale, però siamo di fronte ad una diagnosi molto, con una prognosi molto molto riservata. Per quanto riguarda l'approccio multidisciplinare, chiaramente a noi arrivano un po' da tutte le parti, ma poi ne parleranno sicuramente persone più esperte di me. sono pazienti che hanno attraversato tantissimi specialisti per un esame oftalmologico, per la consulenza genetica, quindi sono seguiti dal pediatra, dall'oculista, dal neurologo, dall'ortopedico, dal chirurgo maxillofacciale, dall'internista, dal cardiologo, dall'oncologo, nei casi, come avete visto, maligni. Noi che cosa possiamo fare? Nel primo caso, quel ragazzino, vedete una localizzazione nel prolabio superiore, effettivamente, questo non l'abbiamo ancora operato, è una localizzazione molto difficile, perché la ricostruzione in quella sede prolabiale superiore è molto complessa, cioè è necessario un trasferimento di un lembo da una sede lontana, un intervento quindi microchirurgico di lunga durata. Diverso invece questo signore anziano che alla fine dice toglietemi quelli che mi danno fastidio, quindi è lui che ci indica qual è la nostra via chirurgica. Qual è la mia esperienza, la nostra esperienza? 69 pazienti, trattati tra il 2003 e il 2018, tutti naturalmente rientravano nei criteri diagnostici della NF1 con diagnosi genetica, ma vedete che anche un piccolo gruppo aveva solo una diagnosi clinica, quindi l'importanza che i membri del gruppo multidisciplinare si parlino e che quindi i pazienti vengano inquadrati bene dal punto di vista genetico per avere una diagnosi di certezza. prevalentemente vedete sono adulti, quelli che vediamo solo il 12% sono bambini, però questo bimbo come vedete aveva questa localizzazione, ha questa localizzazione, questo è di Torino, lo stiamo continuamente monitorando con dei genitori molto molto presenti, però le volte in cui fa una risonanza per valutare l'evoluzione della malattia a livello della guancia destra la deve fare in anestesia generale, perché ovviamente non si deve muovere per poter avere la sensazione di come si sta accrescendo, per il momento non è stato operato. Questo invece è Matteo di Cesena, un bambino che mi ha fatto diventare matto perché esuberantissimo e quindi me l'aveva indirizzato il professor Perilongo con una localizzazione vedete particolarmente difficile perché siamo a livello della mucosa, della palpebra superiore con un'estensione lo vedete nel pezzo chirurgico che stiamo asportando anche verso il sopracciglio. Anche lui sta molto bene, gli avevamo chiesto le foto ma la mamma dice preferirei non portarglielo perché quando viene in ospedale lei ha visto che le distrugge l'ambulatorio quindi però diciamo questa è una localizzazione molto insinuosa quindi che necessita una perfetta conoscenza da parte nostra della anatomia funzionale perché qui dobbiamo comunque rispettare l'elevatore della palpebra quindi dobbiamo rispettare la componente anatomica funzionale ed identificare la massa neoplastica per cercare di essere il più radicali possibili. Vedete che per quanto riguarda la distribuzione dei neurofibromi noi abbiamo eseguito nella nostra storia 157 interventi chirurgici minori quindi in anestesia locale o sedazione con una media di 2-3 neoformazioni asportate in un unico tempo chirurgico 82 interventi invece di chirurgia plastica maggiore questo che vi ho appena fatto vedere è di chirurgia plastica maggiore perché è un paziente che resta in sala almeno due ore la localizzazione vedete la faccia è prevalente il torace è molto alto come la mammella nel sesso femminile è un'altra localizzazione molto frequente quindi questi sono quadri diversi vedete quella signora ha una localizzazione diciamo nella regione anteriore rispetto alla zona auricolare anteriore e posteriore e poi vi farò vedere quindi diciamo sono tutti pazienti che presentano le localizzazioni più disparate quando riusciamo a essere radicali e a chiudere per prima si dice in gergo chirurgico cioè suturando direttamente i margini siamo molto felici ma molto spesso il neurofibroma non sceglie delle zone difficili cioè delle zone dove non c'è scorrimento tessutale e quindi dove la ricostruzione come nella pianta del piede l'avete visto nel bambino di prima è una ricostruzione molto molto difficile oppure a livello di avambraccio come in questo caso dove il neurofibroma nasce in una zona minata perché in questa zona passa il nervo mediano passa il nervo ulnare quindi diciamo la compressione determina dei sintomi a livello della mano che sono veramente invalidanti fino alle varie localizzazioni quindi diciamo che cosa ho osservato nell'esperienza della nostra clinica che sicuramente in questa malattia noi abbiamo avuto un elevato tasso di asportazioni parziali è molto spesso impossibile riuscire a essere completamente radicali in questa l'obiettivo quindi alla fine e sta cambiando un po' l'orientamento anche della letteratura scientifica chirurgica non è la radicalità perché spesso è impossibile da raggiungere ma è si dice il debulking lesionale cioè ridurre la lesione il più possibile in modo da togliere il sintomo e rendere la qualità della vita accettabile oggi abbiamo dal punto di vista della pianificazione chirurgica la risonanza la PET-TAC e la discussione multidisciplinare quindi spesso sono interventi che discutiamo appunto col collega maxillofacciale col collega oculista per capire che cosa per fortuna siamo in una città dove in una università in un ospedale dove le competenze ci sono anche se in questo momento sono molto maltrattate però sappiamo di essere forti e bravini nel nostro lavoro ci crediamo molto e siamo molto appassionati oggi alla discussione multidisciplinare vedete che bella questa ricostruzione tridimensionale di un attack che ti permette effettivamente di vedere la lesione in 3D quindi di capire effettivamente quale sarà l'atto chirurgico che andrai a fare e vedete questa nostra signora che vi dicevo prima con localizzazione preauricolare e localizzazione alla palpebra l'entità dell'intervento è estesa perché la lesione che sembra solo interessare la regione della palpebra superiore in realtà è molto estesa verso la regione temporale quindi diciamo noi sappiamo anche e queste sono riflessioni personali ho osservato che dopo l'adolescenza c'è una stabilizzazione lesionale quindi questa è una cosa molto importante l'evoluzione rallenta le resezioni alla fine non devono essere resezioni troppo estese per la radicalità ma come dicevo prima devono essere per quanto possibile migliorare la qualità della vita preservare i tessuti nobili come i tronchi nervosi e rispettare le unità estetiche facciali quindi la palpebra la guancia tutti i concetti che fanno parte della bc dei miei specializzanti che vedo presenti in sala quindi ricostruire l'unità funzionale estetica quindi il successo chirurgico quale sarà la riduzione del dolore il recupero funzionale per esempio l'ampliamento di un campo visivo di una palpebra che oscura i due quadranti esterni va considerato un successo chirurgico o il miglioramento della presa di forza dell'arto superiore nonché ma mi sono già espresso in tal senso il recupero estetico in questi pazienti vedete altro intervento qui purtroppo diciamo abbiamo una a livello dei tronchi soprattutto degli arti inferiori degli arti superiori scusate abbiamo lesioni che si espandono irregolarmente nella compagine assonica cioè fanno della confusione dentro al nervo per cui per noi è difficile anche se usiamo il microscopio anche se usiamo i quattro i quattro per come occhialini o anche i 6x non è possibile separare completamente l'aneoplasia dal tronco nervoso ma la chirurgia plastica per fortuna se dobbiamo resecare completamente il tronco nervoso lo può ricostruire col famoso nervo surale che vedete lì che alla fine permette a questa mano di avere queste funzionalità questi sono test di funzionalità del nervo ulnare che cosa vuol dire che questo nervo che è stato ricostruito dopo un anno di riabilitazione molto intensa è in grado di far fare questi movimenti alla mano questa è un'altra bambina che si chiama Ilaria dove i genitori la portano per una forma molto estesa vedete a livello della guancia purtroppo qui è possibile perché per fortuna siamo di fronte a tessuti che sono molto lassi è possibile fare una resezione primitiva quindi non fare un grosso intervento chirurgico ma sappiamo già che riavvicinando i tessuti creeremo una condizione di ischemia cercando di diciamo tirarli per chiudere e quindi una condizione che non porterà alla cicatrizzazione per cui quando i genitori me l'hanno riportata con una cicatrice che alla ragazzina adesso 14enne dava fastidio non li ho mandati via a calci ho detto signori adesso si fa invece il secondo passo che è la ricostruzione estetica quindi la possibilità vedete con delle microplastiche a z di ridurre la la tensione dei tessuti in modo tale che questi diciamo triangoli che si intersecano porteranno nel giro di un anno due anni la ragazzina mi dice ma quanto devo aspettare aspetta i tempi naturali della cicatrizzazione e vedrai che il risultato estetico ti soddisferà l'anatomia patologica allora anche il ruolo dell'anatomo patologo è molto molto importante perché conferma la diagnosi perché ci dà il segnale di benignità o di malignità e quindi diciamo di fronte a masse anche come questa vedete a livello dorsale anche il lavoro dell'anatomo patologo non è facile nel senso che pensate a quante sezioni deve fare per una lettura accurata sia di radicalità sia di qualità benigna o maligna della lesione quindi diciamo ci parliamo questo è il risultato del post ma ci parliamo con l'anatomo patologo cioè gli diciamo ti abbiamo mandato un chilo di lesione l'abbiamo centrato e tu devi studiare i margini che già in sala operatoria ti abbiamo segnato mettendo un filo due fili tre fili in modo che si orienta e ci sa dare una diagnosi alla fine anatomo patologica precisa questa è un'altra ragazzina con neurofibromi dell'arto superiore sinistro vedete che avevano purtroppo che erano continuamente recidivati perché operati sempre in ambiti non oggi si dice di hub cioè queste patologie rare effettivamente devono essere focalizzate verso centri che hanno grande esperienza perché sennò si rischia di creare storie come questa ragazzina che veniva operata ogni tre mesi in modo così diciamo sempre non radicale adesso è un anno che è esente da recidiva le prospettive terapeutiche future non sono di mia competenza io continuerò a fare il chirurgo ve ne parleranno i miei colleghi concludo con la sfida la sfida è il face transplant sapete che il trapianto di faccia è qualche cosa che nella neurofibromatosi è stato proposto ed eseguito è stato eseguito in un centro specialistico questo è un mio amico che lavora tra la Polonia e la Turchia e questo è il risultato noi qui a Padova abbiamo provato a creare un centro di face and hand transplant appena ho preso diciamo la conduzione della clinica ho mandato nei principali centri in giro per il mondo giovanissimi collaboratori purtroppo la politica non me li ha fatti rientrare oggi sono professori associati alla Cleveland University quindi per dire la validità di questi ragazzi ma la politica non li ha fatti rientrare quindi io ho detto qui a Padova un centro di face and hand transplant finché ci sono io non si farà mai perché non si deve fare quello che è successo purtroppo e tutti voi lo sapete a Roma quindi quando si decide un intervento di questo tipo devono esserci anni di preparazione di un'equip anni di preparazione per il prima il durante e il dopo perché sono pazienti che subiranno delle terapie immunitarie per controllare il rigetto per tutta la vita quindi ci si deve mettere una mano nella coscienza nella selezione e dire il paziente con neurofibromatosi quadro elephant man vale la pena che vada incontro al trapianto di volto io concludo diciamo lasciandovi questo dubbio concludo però dando anche da fare alle associazioni vi chiedo di aiutarci anche a chi diciamo sviluppa la la ricerca aiutarci ad avere un database chirurgico perché come vedete i numeri qui a Padova cominciano ad essere veramente importanti quindi se abbiamo un database siamo anche in grado di avere delle osservazioni che non sono quelle della mia esperienza personale perché questi pazienti li ho visti tutti ma sono oggettive e quindi pubblicabili nelle più importanti riviste scientifiche quindi per concludere è una malattia rara punto di domanda forse la meno rara tra le rare colpisce però distretti socialmente importanti che costringono i pazienti a molteplici interventi di chirurgia ricostruttiva ma con finalità sempre estetica l'esperienza del nostro gruppo ha evidenziato come sia importante la radicalità oncologica solo nelle forme ad evoluzione maligna mentre nelle forme benigne è la regressione dei sintomi quindi il debulking funzionale come si diceva prima che deve essere l'obiettivo per quanto riguarda diciamo la molteplicità degli interventi questi devono essere eseguiti quando ne vale la pena quindi quando le neoformazioni sono dolorabili danno dei deficit funzionali o naturalmente ci sia il sospetto di malinità l'obiettivo è come e concludo stressando questo concetto è il migliore risultato estetico e funzionale che minimizzi i rischi operatori ecco perché in modo un po' polemico vi ho fatto vedere quello che è successo a Roma talvolta naturalmente anche sacrificando la radicalità chirurgica nelle neoformazioni vi ringrazio grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti